Macerie è un termine molto attuale purtroppo in Italia in questo momento e potremmo associare demolizione, dismissione, ricostruzione in un paese così povero di superficie e invece così ricco di storia. Ciò che resta di un disastro collettivo e individuale, mi viene in mente il mattone realizzato con i detriti del terremoto presentato all'ultima biennale di Venezia nel padrone cinese. Macerie è il seducente equivoco della decadenza, l'estetica della decadenza è in un certo senso un pericolo della dimensione delle macerie che occupano il mondo contemporaneo, però vengono riscattate da una cosa che in per sé è straordinaria, è l'indecifrabile bellezza di ciò che non si è potuto rimuovere, che ha con sé una sorta di dimensione astratta di non immediata leggibilità, che ti muove verso la possibilità di interpretare la contemporaneità attraverso le nuove sovrapposizioni di figure e di forme differenti. Mobilità significa riscrivere un territorio, modificarne e dilatarne i perimetri e i confini, alterare i tempi di attraversamento di uno spazio geografico. L'architettura del XXI secolo ha messo in crisi concetti tradizionali e ha messo in campo nuove qualità. Tra queste l'attenzione per la mobilità ha creato soluzioni specifiche per paesaggi di passaggio. È una necessità a che vedere con la parola adattabilità, direi che è la capacità di sopravvivenza di una specie. La parola piacere ha una cosa bellissima in suo, che è un'altra parola, che è la parola sensualità, sensorialità. Capacità di creare una sensibilità, una sensualità, una sensorialità verso l'intorno. Il grande inganno di rendere il funzionalismo, la funzione, la razionalità dei edifici come elementi realmente condivisibili e comunicabili è un inganno da combattere. Le uniche cose realmente condivisibili sono il piacere, il sentimento e la poetica. La condizione postmoderna per eccellenza sotto certi aspetti. La disponibilità inclusiva del poter usare tutte le forme nella maniera più scomposta possibile inizialmente, ma poi invece ad articolare in un discorso più, in qualche maniera, riferito ad una realtà concreta. Questo però porta con sé, in questo piacere, come dire, la maledizione del gioco ipnotico della composizione ripetuta in continuazione. E quindi questo è l'aspetto un po' onanistico del piacere che è meglio, come dire, non praticare più di tanto. La rivincita della parola tempo sulla parola spazio. Mi viene anche in mente il termine inclusione e usare la E come congiunzione anziché la O come dissociazione. Il moderno è caratterizzato dalla incompatibilità tra diverse ideologie. Il postmoderno è caratterizzato dalla loro compresenza non problematica e tendente all'ibridazione e alla simultaneità. Credo che la grande rivoluzione post-postmoderna sia quella di ritornare a connettere le cose fra di loro e a collegarle fra di loro, perché è lo strumento della sua parte a creare bellezza e la connessione fra gli elementi. Il postmoderno credo che cinicamente avesse deciso di non collegare fra loro le cose. Realismo. Il realismo è stare un po' coi piedi per terra. Poi si può dire che un architetto se sta troppo coi piedi per terra si sporca, quindi deve stare un po' con la testa nelle nuvole. Ecco bisogna essere altissimi, molto molto alti. Se abbiamo momenti di eccellenza, abbiamo avuto momenti di eccellenza nel corso del XX secolo è perché nelle varie discipline, nelle varie arti abbiamo guardato la realtà. Anzi, il momento più drammatico che è quello dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, momento direi doloroso di guerra civile, di scontro, di fine di un'epoca, di fine delle speranze, se abbiamo ritrovato il modo di esprimere valori creativi forti è stato perché abbiamo guardato con serenità, a volte anche in modo tragico, alla realtà. Il realismo è una visione disillusa della realtà, un nuovo punto di partenza da cui tracciare un'estetica per il nuovo millennio, ambientale, sostenibile, visionaria. La scelta che dobbiamo fare è decidere se vogliamo continuare a consumare ancora suolo, cioè continuare a costruire erodendo risorse al territorio, seppure scegliamo di costruire sul già costruito, cioè recuperare le risorse che sono in campo. Se scegliamo come ovviamente giusto questa seconda strada, non abbiamo altra scelta se non riconvertire, cioè modificare edifici e condizioni di stato che oggi non sono più utili in nuove funzioni, nuove attività, in nuovi programmi d'uso della città. Il concetto della riconversione è un concetto centrale nel nostro fare architettura e città oggi, perché credo che siamo nell'era del riciclo, dobbiamo riutilizzare tutto. Io sono contrario all'idea di demolizione e sostituzione. Sono per l'idea mediterranea del riuso, della costruzione sulla costruzione, del piccolo cambiamento, della grande metamorfosi. L'idea del riciclo è un'idea ecologica. Allora, riconversione è una parola che mi porta alla memoria una cosa della mia infanzia, dagli anni 70, una canzone che cantichiavo quando ero ragazzo, ragazzino, perché è una canzone, credo, della metà degli anni 70, di Alberto Radius, si chiamava Nel Letto. La frase che cantichiavo era la riconversione non deve essere un'occasione per confondere lo schiavo col padrone. La frase che si chiamava Nel Letto hauit!!! La frase la lingica è un'occasione per curvellare, che mi